Ciao ragazzi, il posto dove mi trovo si chiama Holy Loft quelli che lo conoscono lo conoscono come Loft è un club esclusivo di Mamaia in Romania sul Mar Nero dove ci va tantissima gente, è un posto enorme all'aperto c'è discoteca, c'è programma, ci sono le ballerine, c'è un po' di tutto qua per avere un tavolo la consumazione minima al tavolo è di 500 euro altrimenti non puoi entrare, non ci sono posti a piedi o entri solo per ballare devi assolutamente consumare, ovviamente non da solo, con un gruppo quante persone andate dovete consumare minimo 500 euro però lo consumate presto perché i prezzi sono altissimi veramente vedete questa cariola piena di ghiaccio e di spumante champagne gold non mi ricordo esattamente il nome che c'è il compleanno di qualche personaggio importante e stanno preparando adesso questa cariola ecco adesso lo portano tutti questi ragazzi lavorano, sono i camerieri che lavorano a questo club e sono tanti veramente eccoli ed ecco la cariola piena di champagne una cariola del genere costa 3-4 mila euro non sto scherzando veramente tra poco metto una foto con i prezzi che ci stanno là si può andare anche oltre questi ragazzi fanno adesso una serpentina in tutto il club e portano questa cariola al festeggiato i prezzi in questo club veramente altissimi c'è solo gente che lo so se lo può permettere se fate caso ho ripreso un po' le persone sono donne ben vestite maschi pure non ben vestiti ma nel senso che costa, l'abbigliamento costa poi so che è questione di gusti ecco sono arrivati al tavolo del festeggiato che ovviamente non l'ho ripreso per avere un posto a questo club dovete prenotare con settimane prima vi ricordo si chiama Loft Holly Loft e la gente balla la festa inizia alle 6 del pomeriggio e dura fino alle 6 del mattino finché l'ultima persona si stufa e se ne va ma più o meno alle 6 del mattino finisce e veramente ci si diverte c'è bella gente è un'esperienza da fare una volta diciamo perché a farlo ogni settimana solo chi se lo può permettere vedete là in fondo dove sta il DJ ci sono 4 gabbie ecco la lista dei prezzi vi dico solo che 5 lei vale 1 euro quindi se fate un po' di calcoli i prezzi sono altissimi davvero guardate in quelle gabbie là su ci sono 4 a destra e 4 a sinistra ecco la ballerina la ballerina che balla appesa al soffitto è bellissima è pure molto brava questa ragazza questo balletto ha durato un po' di minuti una ventina di minuti ovviamente ho fatto una ripresa molto più accorciata però lei è veramente sia bella che brava che sta proprio sopra la gente appesa là sopra su questo cerchio è stata un'esperienza che sono contenta di averlo fatto anche se sono un po' io come donna sono un po' fuori età perché sono molto le giovanissime ovviamente non sotto i 18 anni perché non possono entrare e invece i maschi sono un po' più su perché devono pure lavorare e guadagnare per andare a un posto del genere non è un posto per tutti per tutti selezionano le persone anche a base di come arrivi con chi arrivi ecco le ballerine in questo caso le ballerine sono vestite da Star Vark come si chiama? scusate ci sono otto donne in queste quattro gabbie che ballano fanno più balli tutta la serata ovviamente c'hanno pure la pausa quando si riposano un po' con quel caldo vestite così non posso immaginare avranno sofferto sicuramente però non sono strepitose sono tutte bellissime eccoli qua è stato molto interessante è un'esperienza molto interessante 1,2,3,4 in un'altra parte del DJ altre quattro sono otto in tutto mi fa molto piacere di farvi vedere questo video per vedere come si vive là ecco le ballerine quando iniziano a lavorare cioè avranno preso una pausa adesso tornano questo è preso retro e niente questa è in tarda notte sempre le ballerine lassù io vi saluto mi mando un bacio questa è la fine della mia vacanza spero che vi è piaciuto aspetto i vostri commenti i vostri like iscrivetevi al mio canale e vorrei anche ricordarvi che il lunedì inizierò la Miss Reginetta d'Italia e avrò bisogno del vostro aiuto avrò bisogno del vostro like farò un video dove vi spiegherò esattamente come fare per per votarmi se ovviamente se vi fa piacere quindi lunedì martedì e mercoledì a Riccione ciao